salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale youtube torno con un nuovo video per mostrarvi due nuovissimi color skit di cristalli si tratta di chaton in cristallo austriaco ss39 e i riboli preciosi da 14 mm siamo andati dal fornitore avevano rifornito qualche colore nuovo tra cui anche abbiamo trovato anche qualche rimanenza di questi chaton ss39 da poter acquistare quindi abbiamo deciso di fare dei color skit questa è la confezione che riceverete a casa adesso io li apro e ve li faccio vedere uno per uno anche con i nomi dei vari cristalli a tra poco ok questa è la confezione che riceverete acquistando il color skit dei rivoli preciosa da 14 mm ce ne saranno due quattro sei otto sedici rivoli quindi sono otto coppie ovviamente in otto color diversi partiamo con il primo è il light siam questo qua ovviamente il rosso è riconoscibilissimo ed è questo bellissimo colore appunto rosso è molto bello guardate la brillantezza dei rivoli della preciosa è veramente veramente sono dei cristalli di altissima qualità quindi troverete una coppia del colore light siam una coppia nel colore violet guardate anche questo che bello e l'ho già usato per mi pare per fare degli orecchini camilla mi pare questo colore abbinato a un borgogna e al blu guardate che bello mi piace veramente tantissimo sono veramente belli poi abbiamo il dark in dingo che è questo sembra nero ma in realtà è un blu scurissimo e ora vi faccio vedere ci sono dei riflessi che vanno appunto sul sul blu vedete sembra appunto nero però in realtà ci sono dei riflessi più scuri me li zumbo così si vedano anche meglio che bischera ok vedete questo è il dark in dingo vedete sembra nero però come si gira ha dei riflessi che vanno sul blu intenso blu scurissimo poi abbiamo questo bellissimo colore che è il topaz è un colore nuovo che ha assortito il il fornitore è spettacolare veramente sembra un mette tanto tanta energia tanto tanta 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 allegria è veramente veramente bellissimo e questo color whisky un color topaz molto molto brillante vedete sono veramente fatti bene poi abbiamo il classico blu zircon anche questo era un colore che già avevamo e guardate che meraviglia che è questo qua ed è questo bellissimo verde acqua smeraldo guardate che bello quindi anche una coppia di questo poi abbiamo il light peach che sono questi anche questo era un colore che già avevamo e che abbiamo deciso di chittizzare insieme agli altri ed è questo guardate anche questo è un bellissimo color pesca chiarissimo mi piace veramente tanto poi tra i colori nuovi abbiamo il crisolite ragazze guardate che cos'è io credo che in qualsiasi in qualsiasi tipologia di perlina il crisolite è sicuramente uno dei colori che va per la maggiore è questo verdolino chiaro color tiffany molto delicato e bellissimo vi faccio vedere anche il retro di questi di questi rivoli e sono veramente fatti benissimo e sono molto molto fini vedete sono veramente veramente fatti molto bene infine l'ultimo colore è questo che è il john kill è anche questo un colore nuovo anche questo sembra un giallo direte con che cosa lo abbino io ho fatto un abbinamento con per la parure sweet cocoa usando però gli chaton e inserendo il crescent col colore violaceo e il blu un violaceo che tendeva al blu praticamente usando un colore di questo genere il il diciamo il giallo del del rivoli del cristallo tende un po spengersi e quindi sembrava quasi come se ci avesse inserito un cristal però un cristal particolare che dava molta molta luce quindi questo è il color john kill e questi sono i 16 rivoli della preciosa che riceverete acquistando il color skit appunto dei rivoli preciosa da 14 mm adesso passiamo agli chaton eccoci questo è invece la confezione degli chaton in cristallo austriaco per capirsi sono i vecchi svaroschi cristallo austriaco ss39 quindi della misura che è di circa 8 mm all'interno della confezione troverete 4 chaton per 7 colori quindi sono 28 cristalli che potrete acquistare e insomma che troverete all'interno di questa confezione sono tutti colori nuovi adesso ve li faccio vedere allora partiamo dal montana che è questo bellissimo colore qua hanno una sfaccettatura una brillantezza veramente unica sono veramente molto belli guardate quanto quanto è bello questo color montana quindi troverete quattro cristalli per il color montana poi troverete il colore amethyst e questo è uno dei miei colori preferiti insomma in questa palette di colori mi ci sbizzarrirei veramente con tantissimi abbinamenti l'amethyst è uno dei miei colori preferiti perché lo abbino sempre tantissimo con molti con molti colori quindi questo è il color amethyst e questo color viola borgogna molto molto bello e molto brillante gli chaton hanno la particolarità rispetto ai rivoli di avere un taglio molto particolare quindi nonostante che siano piccoli hanno una luce una brillantezza veramente esagerata poi abbiamo il light sapphire che è questo bellissimo blu azzurro chiarissimo molto bello sembra ghiaccio guardate è un blu con delle piccole che tendente un po anche al violetto e anche questo è uno dei miei colori che veramente che solitamente uso in diversi in diversi modi poi abbiamo il color silk questo è un colore che non avevo mai visto ed è questo bellissimo rosa cipria tendente un po allo champagne guardate quanto è elegante e bello e brillante questo questo colore spero che si capisca dal dal video poi abbiamo il color blue shade anche questo ragazze sembra diamante ora ve lo faccio vedere è un color ghiaccio praticamente lo chiamo color ghiaccio e ve lo faccio vedere perché è un crystal di base però ha un effetto che vira un po sul sul grigio sul celestino chiarissimo ed è per questo che si chiama blue shade guardate quanto è bello quanto brilla e quanto è particolare questo colore quindi troverete quattro cristalli quattro chaton nel color blue shade poi c'è il color light rose ed è classico il color rosa io di solito non vado molto matta per questo tipo di tonalità però ho usato sempre nei bracciali sweet cocoa degli abbinamenti con il rosa magari usando un grigio e devo dire la verità che mi è piaciuto mi sono piaciuti molto quindi devo anche imparare un po a usare altre tipologie di colori perché di base mi piacciono tutti ciò io ovviamente i miei preferiti però insomma mi sono promessa di smettere di snobbarne alcuni e il rosa il rosa di questo genere qui solitamente io non lo utilizzo molto però se appunto abbinato con determinati tipi di colore rende veramente tanto quindi quattro chaton nel colore light rose e poi ragazzi questo che è meraviglioso il colore royal blue purtroppo c'era solo il blue non c'erano anche di altri colori ormai la categoria royal è conosciuta come tipologia di finitura c'erano veramente dei colori bellissimi e l'unico che era rimasto disponibile era il blue e noi ovviamente l'abbiamo preso questo non ha bisogno di molte presentazioni sono quelli classici dove il retro è dello stesso colore colorato rispetto al davanti quindi anche in questo caso troverete quattro chaton quindi adesso li risistemo ve li faccio vedere tutti insieme e vi faccio un breve riepilogo eccoci qua guardate quanta luce che ho qui sul tavolo quindi questi sono i due color skit di cristalli rivoli preciosa da 14 mm e gli chaton SS39 di cristallo austriaco che troverete disponibili già da adesso sul sito i rivoli saranno 16 colori quindi 8 coppie mentre gli chaton saranno ben 28 4 colori per ogni colore 4 scusate pezzi per ogni colore nell'info box come vi ho detto vi lascio il link per accedere alla categoria dei colors kit e per accedere direttamente a uno di questi due kit almeno andate direttamente ad acquistare quello che più vi piace io spero che vi piacciono datemi un feedback se volete lasciatemi un commentino e ci vediamo al prossimo video sempre qui sul canale un bacione a tutte a presto ciao 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 ciao